Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui all'interno del corso di trading sportivo sul calcio 2.0 di NowTrade e benvenuti ad una nuova lezione dove oggi parleremo dello split over 2 dove continueremo il discorso legato allo split staking ma applicheremo gli stessi concetti nei mercati secondo tempo dove il più delle volte troveremo le migliori occasioni di investimento dell'intero mercato exchange infatti lo split over 2 è senza alcun dubbio la strategia che consiglio più frequentemente nelle centinaia se non migliaia di operazioni consigliate all'interno del nostro canale di telegram quindi mi raccomando link nella descrizione iscrivetevi al nostro canale di telegram in quanto tutti i giorni facciamo pratica per imparare a fare trading sportivo e lo split over 2 sicuramente è la strategia più utilizzata più consigliata e perché questo perché lo split over 2 è una pura strategia di trading sportivo a differenza di altre strategie dove chiaramente non c'è troppa tecnica per esempio un late draw semplicemente se arriva il gol usciamo in cash out lo split over 2 ci permette di avere molti più scenari ci permette di gestire molto di più il trading e questa è una regola generale ragazzi quando andremo a vedere le strategie avanzate la grossa differenza è che la strategia avanzata ci permette di gestire di più il mercato non è che siano applicazioni più difficili chiaramente c'è anche questo ma il grosso vantaggio di una strategia dinamica di una strategia dove c'è tanto potenziale lavoro da svolgere e che ci permette spesso di avere più scenari operativi e molto spesso questo si identifica con una massimizzazione del profitto quindi ragazzi più si lavora a mercato e più potenzialmente riusciamo a guadagnare questo è un po il concetto del trading sportivo più il mercato è dinamico più la strategia può essere varia in diversi punti del mercato possono succedere più cose e più il nostro potenziale di guadagno può essere maggiore rispetto ad altre strategie più statiche lo split over 2 infatti ha tantissimi spunti operativi innanzitutto siamo ancora allo split over la prossima settimana parleremo di split staking ma sui mercati under quindi vi insegnerò a sfruttare i mercati under con strategie appunto in split staking il grosso ruolo dello split staking è di non farci avere tutta la responsabilità in un punto del mercato questa è la grossa differenza chi scommette su un mercato deve prendere il prezzo in quel determinato momento non può splitare la stake chi lavora invece su un mercato sportivo può naturalmente entrare a differenti ingressi questo lo può fare sia in back che lo può fare sia in lay o meglio lo può fare sia in back che in lay e questo permette innanzitutto di non avere una full exposure quindi non permette di non avere una responsabilità completa in un singolo punto del mercato questa responsabilità viene condivisa ecco in più parti del mercato viene quasi dilazionata spalmata in diverse parti del mercato ma soprattutto con le strategie over quindi in split staking sui gol questo ci permette di ottenere un profitto maggiore nel momento in cui i gol dovessero arrivare dove le tendenze di gol sono maggiori un altro vantaggio molto importante dello split over 2 prima di passare subito alla teoria e poi alla tanta pratica ho registrato tanti video per questa strategia così come per tutte le altre il grosso vantaggio dello split over 2 è che lavora nel secondo tempo il secondo tempo è universalmente riconosciuto per essere il periodo dove ci sono più gol e nello specifico la parte conclusiva del secondo tempo la parte centrale conclusiva del secondo tempo è sicuramente il time frame dove se andiamo a guardare tutte le partite di tutto il mondo abbiamo il picco maggiore di gol il picco assoluto maggiore ce lo abbiamo negli ultimi minuti nelle partite di calcio il circa 40 45 per cento dei match rileva almeno un gol negli ultimi 15 minuti poi adesso in tanti campionati danno 12 13 volte anche 15 minuti di recupero quindi alla fin fine in realtà la partita aumenta notevolmente adesso con le ultime regole soprattutto in premier league dove non si perde più tempo si finisce per avere davvero dal 75 fino alla fine della partita spesso anche 25 minuti quindi in realtà l'ultimo time frame non la dice sempre giusta perché in tante partite c'è molto più tempo rispetto che in altri campionati ma in ogni caso lo split over 2 funziona al meglio proprio perché abbiamo lo stesso concetto dello split over quindi quello di avere una quota media più alta nel momento in cui arriva il gol ma lo svolgiamo nel secondo tempo nel secondo tempo molto spesso avremo delle situazioni dove possiamo cercare di massimizzare questo profitto chiaramente lo vedrete adesso con gli esempi operativi quindi non preoccupatevi ma in ogni caso il grosso vantaggio dello split over 2 è che il mercato nel secondo tempo si muove tendenzialmente più rapidamente quindi le nostre operazioni il nostro tempo a mercato non sarà così lungo come per esempio nello split over tradizionale dove stiamo 60 minuti a mercato molto spesso il nostro split over può essere chiuso anche in 15 minuti 10 15 minuti potrebbe già arrivare un gol che ci permette di uscire dal mercato ma tendenzialmente il grosso vantaggio dello split over 2 è che se il mercato non si aspetta tanti gol cosa che accade in qualsiasi partita dove non ci sono stati gol oppure dove ce n'è stato appena uno noi riusciamo molto spesso ad andare contro questo pensiero di mercato con successo questa è un po' la chiave del successo di questa strategia che adopero da tantissimi anni ormai e a mio avviso è una delle migliori strategie in assoluto per svolgere questo lavoro di trading sportivo più che di betting tradizionale quindi mi raccomando seguite i consigli che invio su telegram e iniziate da questi esempi operativi lo split over 2 è l'applicazione di split over dei mercati nel secondo tempo probabilmente la strategia più famosa in split staking sui mercati sportivi quando noi suddividiamo i nostri ingressi a mercato l'abbiamo già visto nella prima lezione dello split over stiamo splittando la nostra stake essenzialmente la differenza che poi vedremo nella prossima settimana perché andremo a parlare appunto di split under sussiste nell'entrare in split quindi suddividendo le nostre stake in back quindi entrando nella casella azzurrina no quindi entrando puntando a diversi intervalli e drippando questa è una cosa un po che mi sono inventato adesso il termine inglese è drip in lei quindi quando noi facciamo la stessa identica cosa ma lo facciamo in lei sulla casella rosa sulla casella l'altra quella del banca noi stiamo svolgendo un'operazione di drip laying questa è la differenza split staking in back drip laying in lei questi sono i termini tecnici del training sportivo quando noi rimaniamo e dato che stiamo ancora rimanendo sui mercati over rimaniamo sulla casella azzurra stiamo entrando in split staking tra lo split staking e il drip laying questa probabilmente la strategia più frequentemente utilizzata ed è probabilmente anche una delle più profittevoli ma bisogna svolgere una analisi corretta non si può entrare in split over su qualsiasi partita perché giustamente in molte partite magari i gol non hanno un trend così importante magari le squadre non hanno un periodo di forma così importante e quindi bisogna assolutamente considerare alcuni parametri fondamentali ma adesso lo faremo prima di passare agli esempi operativi il punto di forza ve l'ho appena detto il picco di gol è nella seconda fase di partita lo split over 2 avrà una probabilità maggiore di intercettare questi gol mentre stiamo a mercato con una quota media molto più alta lo stesso concetto ragazzi riprendo qua il mouse lo stesso concetto della volta scorsa noi entriamo con diversi ingressi in maniera tale che la nostra quota media sia appunto una metà rispetto a tutti i vari ingressi se io abbino un ingresso qua abbino un ingresso qua abbino un ingresso qua abbino un ingresso qua la media di questi ingressi che a occhio e croce ragazzi questo ovviamente non è un commento tecnico ma a occhio e croce potrebbe essere qui la differenza che c'è tra questa quota media e il gol quindi la quota alla quale il mercato si ristabilizza dopo il gol ci permette di avere un profitto decisamente maggiore rispetto ad una scommessa full stake magari a un punto molto basso del mercato e molto spesso questo è un over 1.5 di non so quale partita adesso lo vedremo comunque negli esempi operativi molto spesso gli scommettitori tradizionali entrano addirittura nel primo tempo sugli over 1.5 spesso a quote di 1.2 1.3 quelli che fanno le schedine e queste cose entrano a quote molto basse quindi questo vuol dire che anche se fossero entrati a quote di 1.2 adesso di nuovo occhio e croce la quota è arrivata 1.7 qui sarebbero ancora in loss quindi dovrebbero stare lì e pregare che arrivi un altro gol quindi il trading sportivo sotto questo punto di vista ci permette di essere incredibilmente più dinamici e quindi andiamo a guardare lo split over 2 andiamo a guardare le analisi pre match nello split over 2 abbiamo bisogno di alte statistiche di gol nei secondi tempi questo è ovvio ma anche dei picchi di gol nel time frame 60 75 adesso vedremo anche il differente ingresso a mercato perché lo split over 2 ho ricevuto anche qua centinaia se non migliaia di domande ma come si entra ma quando si entra adesso lo vedremo una volta per tutte ragazzi ma di nuovo nello split over 2 abbiamo bisogno di alte statistiche di gol nei secondi tempi abbinate ad un buon picco di gol nella fase centrale del secondo tempo oppure anche nella fase finale perché la fase finale perché se non dovesse andare a buon fine il nostro split staking se dovessimo uscire in cash out negativo al minuto 76 dopo la fine del time frame 61 75 entreremo con un'extra parte di stake sugli over successivi che possono essere over 1.5 oppure 2.5 perché in split over 2 si lavora sui mercati con 0 gol quindi 0 a 0 oppure con singolo gol 0 a 1 o 1 a 0 in tanti mi hanno chiesto ma perché lorenzo non lavori anche su mercati con 1 a 1 2 a 0 3 a 0 cose di questo tipo per due motivi che ve lo spiego anche poi nel video pratico mi ricordo di avervelo già detto nelle varie esempi operativi che ho registrato ma per farla breve principalmente perché la media di gol in tutti i vari campionati mondiali è sempre intorno ai tre gol molto spesso è inferiore soprattutto in partite dove il mercato non si aspetta troppi gol la media di gol varia sempre tra 2 e 3 quindi se noi siamo già sul 2 a 0 lo split over 2 comunque è una strategia che molto spesso cerca anche due gol non soltanto il singolo gol molto spesso questo è controproducente magari il terzo gol arriva subito a inizio secondo tempo e le medie di lungo termine parlo di migliaia di partite non soltanto di due o tre partite dicono che il quarto gol tendenzialmente non arriva in tantissimi match in tantissimi campionati quindi è molto meglio soffermarsi su quelle partite dove non ci sono ancora stati gol la media di lungo termine è comunque di due o tre gol quindi siamo comunque bene all'interno della media di gol e soprattutto abbiamo la possibilità di massimizzare magari se siamo sull'1 a 0 e diventa 1 a 1 la partita magari abbiamo quegli ultimi 15 minuti dove le squadre segnano e cercano di vincere e quindi abbiamo questo potenziale massimizzatore di profitto se dovessimo rimanere sull'1 a 0 perché giustamente non ci sono ancora gol al 76esimo abbiamo una squadra che magari sotto di un gol e cerca in tutti i modi di pareggiare e quindi il rating magari sale entrare su il 2 a 0 0 a 2 partite di questo tipo potrebbe essere controproducente quindi vi invito assolutamente a gestire queste posizioni con risultati di 0 oppure un gol se dovessero esserci più gol ragazzi in questo corso troverete tante altre strategie che si possono applicare senza problemi al mercato e allora dunque come si entra sul mercato in split over 2 adesso lo vedremo con tanti esempi operativi ma ci sono due differenti scenari quali sono questi due differenti scenari sono scenari legati alla quota d'apertura del mercato over 1.5 in caso di 0 a 0 oppure il mercato over 2.5 il mercato in realtà è l'over under under over 2.5 ma in ogni caso questi sono i due asset di riferimento se la quota di partenza degli over che può essere l'1 e mezzo può essere il 2.5 è compresa tra 2 e 2.5 il nostro ingresso sarà dilazionato da ogni mezzo punto di distanza quindi mi raccomando adesso guardate gli esempi operativi perché lo spiego ancora più nel dettaglio ma se la quota di partenza quindi dovesse essere di 2.2 2.1 2.05 2.3 2.4 se dovesse essere compresa tra 2 e 2.5 il mio consiglio è quello di entrare ad ogni mezzo punto come si entra ad ogni mezzo punto lo vedremo tra poco con molta semplicità si aggiunge uno 0.5 alla cifra del 2.2 per esempio siamo a 2.2 facciamo 2.7 e successivamente si replica la quota di partenza con un punto in più quindi per esempio 2.2 diventa 3.2 2.7 diventa 3.7 questa tipologia di split staking ragazzi la utilizzo da oltre sei anni davvero non dico di aver decine di migliaia ma potrei avercele decine di migliaia di esempi svolte con una strategia di questo tipo quindi conosco davvero a memoria questa operatività ed è per questo che ho cambiato leggermente rispetto al corso di quattro anni fa gli ingressi a mercato questo è un corso aggiornato ragazzi ho tanti anni in più di esperienza adesso sui mercati ho anche tantissimo profitto svolto in questi anni di lavoro insieme e anche svolto in autonomia e ho notato che questa è la maniera migliore in assoluto per applicare uno split over 2 se la quota di partenza dovesse invece essere superiore a 2.5 2.5 allora l'ingresso consigliato adesso poi le slide le modifico e le correggo l'ingresso sarà consigliato e dilazionato ad ogni punto intero di distanza quindi nell'esempio 2 possiamo vedere che sono entrato con la prima parte di stake a quote di 2.72 e quindi ho inserito un punto nelle successive parti di stake quindi sono entrato a 3.8 4.8 5.8 soprattutto quando scusatemi le le stake gli intervalli sono molto lunghi distanti tra di loro si può entrare spesso come vedete 2.72 avrei dovuto inserire 3.72 4.8 5.8 si può assolutamente arrotondare per eccesso quindi siamo a 2.72 si può assolutamente entrare a 3.8 questo perché il mercato diventa con un certo spread e questo ci permette spesso di essere abbinati anche a quote leggermente più alte nello stesso identico time frame temporale quindi vi consiglio assolutamente di entrare con questo dilazionamento di stake ok in caso di nessun gol però mi raccomando al minuto 76 o al raggiungimento di un 60 per cento di loss sull'investimento iniziale quindi l'1 per cento diventa 0.6 per cento di loss 2 per cento diventa 1.2 per cento di loss si esce dal mercato over 1 e mezzo over 2 e mezzo e si entra sugli over successivi questo dipende nel senso in tanti mi chiedono ma in tutte le partite si entra sugli over successivi o in soltanto in qualche partita si entra sui mercati successivi dipende ragazzi dipende molto da diversi anche altri fattori per esempio se siamo sull'1 a 0 e vedete che la squadra la partita rimane 1 a 0 al 76esimo la squadra in svantaggio sta attaccando sta trovando il gol sta cercando il gol e sta mantenendo un rating alto allora si può dare sicuramente fiducia magari non soltanto a un back sugli over successivi ma a un lei della squadra in vantaggio così il rischio è minore si può gestire in tante maniere ragazzi se la partita è morta nel senso che non ci sono grosse occasioni il rating è molto basso siamo all'inizio del campionato le squadre sono stanche non hanno interesse ad attaccare negli ultimi 15 minuti si può benissimo chiudere la nostra posizione con un 60 per cento di loss che è assolutamente sostenibile nel tempo assolutamente una loss consona con un piano di investimento in trading sportivo e quindi questo lo dovrete decidere voi ma se il rating è molto alto se c'è un picco di gol nel finale se c'è magari una alta motivazione perché una delle due squadre se non fa un gol va in serie b va in serie c e cose di questo tipo a mio avviso questo extra back negli ultimi 15 minuti che poi ve l'ho appena detto spesso sono 20 minuti 25 minuti in alcune partite ieri ho visto un recupero di 14 minuti in una partita che tra l'altro ho tradato qua e poi quindi lo vedrete in diretta spesso è una scelta molto buona perché comunque comunque se il mercato non si aspetta così tanti gol al 75esimo continua a non aspettarseli quindi le quote sugli over successivi saranno alte non saranno quote basse questo ci permette il più delle volte di recuperare delle loss ottenute in precedenza non ho altro da dirvi ragazzi se volete potete anche consultare un vecchio video che avevo registrato qua su youtube anni fa dove vi spiego questa tendenza appunto dello split over 2 come gestire le posizioni direttamente sulla piattaforma web se volete il link lo lascio qui da qualche parte in alto ma per tutto il resto vi invito a seguire questa carrellata questo carosello di esempi operativi per fugarvi ogni dubbio e per sapere esattamente come gestire e come trovare delle buone occasioni di split over 2 quindi buona visione nel frattempo mettete un mi piace e sedetevi comodi prendete magari anche qualche appunto per testare per lavorare con lo split over 2 eccoci qui ragazzi per un primo esempio di lavoro con la strategia dello split over 2 sicuramente la strategia che utilizzo più frequentemente con il metodo dello split staking quindi splittando le stake entrando a mercato con differenti ingressi dilazionati all'interno dello stesso questa strategia mi piace particolarmente perché il secondo tempo è tipicamente questo succede praticamente in qualsiasi campionato del mondo la metà di partita dove il maggior numero di gol arriva ovviamente ogni partita è una storia a sé ci saranno sempre le partite con quattro gol nel primo tempo e nessun gol nel secondo tempo e questo lo vedremo soprattutto con le strategie under quindi nelle prossime elezioni split under split under 2 andremo dire proprio a lavorare su questi scenari dove i primi tempi sono un po anormali arrivano un po troppi gol e molto spesso il sentimento di mercato è troppo fortemente convinto di altrettanti gol nel secondo tempo e lì davvero c'è la grossa occasione per sfruttare i mercati under ma oggi parliamo di split over 2 e invece lavoreremo su mercati dove di gol non ne sono arrivati molti nel primo tempo questo è classico la maggior parte delle partite termina 0 a 0 a fine primo tempo e subito successivamente abbiamo 0 1 e 1 a 0 questi sono i risultati esatti con i quali noi lavoreremo con la strategia dello split over 2 voglio mostrarvi in questi due primi esempi abbiamo una partita in corea e abbiamo una partita in giappone voglio mostrarvi esattamente come dilazionare i vostri ingressi a mercato poi parleremo anche delle statistiche ragazzi non preoccupatevi perché ovviamente c'è anche un importante lavoro di statistica dietro all'ingresso a mercato ma voglio concentrarmi sul dilazionamento ecco della degli ingressi a mercato e quindi voglio mostrarvi esattamente come quando entrare per capire come entrare in uno split over 2 dovete consultare la quota di partenza del mercato over 1.5 rispetto all'asset corrente cosa vuol dire vuol dire che se siamo 0 a 0 l'asset di riferimento sarà l'over 1.5 se siamo 1 a 0 0 1 l'asset di riferimento sarà l'over 2.5 l'asset ovviamente è l'over under 2.5 ma noi opereremo sul mercato over 2.5 questo momento sembra forse addirittura essere arrivato subito un gol in giappone vediamo subito perché ho visto che c'era del profit adesso lo vedremo meglio ma in ogni caso voglio farvi capire esattamente come entrare a mercato se la vostra quota d'apertura di questo mercato under over 2.5 o 1.5 dovesse essere compresa tra 2 e 2.5 il vostro ingresso sarà dilazionato ad ogni mezzo punto di intervallo se invece la vostra quota d'apertura dovesse essere superiore a quote di 2.5 come lo era nel caso chiaramente di questa partita come vedete siamo a 2.80 ho aperto il mio primo ingresso a mercato a 2.7 l'ingresso a mercato sarà dilazionato ogni punto di distanza come vedete questo è lo stesso ingresso 2.72 2.72 sono entrato con due parti di stake ma come vedete le altre parti sono direttamente con 50 sono ingressi a 2 per cento per ogni posizione ma come possiamo andare a vedere in questo caso il mio ingresso è a ogni mezzo punto come si fa a calcolare il mezzo punto non è così difficile vi basterà semplicemente inserire uno 0.5 alla prima parte di stake o meglio la prima quota siamo a 2.2 cosa faremo faremo 2.2 più 0.5 questo diventa 2.7 cosa facciamo nelle successivi parti di stake replicheremo quello che abbiamo fatto nelle prime due parti ma aggiungendo un punto prima quindi 2.2 diventa 3.2 2.7 diventa 3.7 è molto semplice prendete la prima quota per esempio è 2.1 fate più 0.5 2.6 e successivamente farete 3.1 e 3.6 se siamo a 2.2 2.2 2.7 3.2 3.7 questo è un ottimo split stake in questo sfrutta al meglio quei mercati dove comunque il gol il mercato se lo aspetta abbastanza ma noi invece ce lo aspettiamo nella parte centrale finale di partita e questo ci permette di ottenere il risultato migliore come vedete non tutti i mercati e non in tutte le partite il mercato si aspetta questi gol con la stessa probabilità ma se noi andiamo a guardare le medie di gol le statistiche l'incidenza di gol il time frame quindi esattamente quando le tendenze sono da gol riusciamo ad andare sicuramente ad intercettare dell'ottimo valore sul mercato andiamo per esempio nelle second half stats e andiamo a cercare la partita del fukuoka contro il visselkobi a fine primo tempo siamo sullo 0 a 1 sto utilizzando le second half stats che potete trovare nelle statistiche di gol profits e possiamo andare a vedere che nei secondi tempi quando questi sono tutti i secondi tempi quindi nei secondi tempi i gol sono arrivati molto frequentemente soprattutto il visselkobi che attuale l'attuale campione di giappone 13 volte su 14 ha trovato un gol o comunque ha subito ha registrato ecco segnato subito un gol il 93 per cento dei casi e abbiamo un circa 40 per cento di due gol nel secondo tempo questa è una media molto interessante nel frattempo il mercato qua in core è stato sospeso vedremo che cosa è successo possiamo andare a vedere che quando la partita è effettivamente terminata esattamente 0 a 1 abbiamo avuto sei situazioni in queste sei situazioni il visselkobi ha sempre registrato un gol quindi la tendenza del visselkobi è di comunque avere extra gol nel secondo tempo la vispa fukuoka invece una volta non ha trovato nessun gol ma la volta successiva o comunque quella prima quella dopo ne ha registrati due di gol quindi questa è una media abbastanza interessante perché comunque abbiamo un 93 per cento da parte della squadra sicuramente più forte e abbiamo una quota molto alta il mercato non si aspetta così tanti gol in questa partita anzi crede abbastanza fortemente che possa al massimo arrivare un extra gol ma questo è il vantaggio dello split over 2 a noi ci basta anche soltanto un gol per chiudere il profitto ma questo gol deve arrivare nel time frame di riferimento 60 75 quando il nostro ingresso è dilazionato così in maniera più prolungata diciamo soprattutto in termini di intervalli d'ingresso si può rimanere anche fino all'ottantesimo ma vi consiglio di rimanere al massimo fino al 76esimo in qualsiasi caso in questo caso vedrete che se il gol arriva tra il 70 e il 76esimo il profit sarà molto importante perché come vedete le quote stanno salendo in maniera esponenziale adesso non so cosa sia successo in corea tra l'altro la corea si può liberamente guardare nella tv coreana o meglio andando su k league tv adesso mi collego per capire un attimo che cosa sia successo ma in ogni caso poco interessa ragazzi perché questo è un ottimo ingresso adesso lo vedremo insieme in ogni caso andiamo a vedere le statistiche anche dell'altra partita no in questo in questo caso il mercato è semplicemente stato sospeso ma non ci sono grossi eventi quindi tra poco dovrà essere immagino riaperto ma in ogni caso andiamo a guardare anche la partita del geom book contro il seul possiamo andare a vedere che in questo caso addirittura abbiamo un 86 per cento di probabilità di gol nel secondo tempo e addirittura un 57 per cento quasi il 60 per cento delle volte arriva un gol nel secondo tempo tuttavia quando questo risultato è esattamente di 0 a 0 le medie di gol non sono così tanto alte sono più o meno intorno al 65 per cento 62 63 per cento ma sono medie comunque molto alte ragazzi perché se andiamo a guardare le quote soprattutto se andiamo ad intercettare nel momento del gol una quota media molto più alta rispetto a quella classica di 2 piuttosto che di 2.2 2.3 otteniamo sicuramente un risultato molto interessante come vi dicevo l'incidenza di gol nei secondi tempi è sempre maggiore rispetto ai primi tempi quindi la probabilità di andare ad intercettare un gol è più alta rispetto a strategie magari nel primo tempo come il super over come il super punta come altre strategie che andremo a studiare ancora insieme e quindi questa è sicuramente un'ottima alternativa e soprattutto è un ottimo metodo sto guardando intanto la partita perché il rating è molto molto alto meglio sto vedendo le squadre attaccare in maniera molto convinta volevo dirvi intanto il mercato non è stato cioè è stato riaperto non so se siano arrivati dei gol no non credo che sia successo nulla quindi adesso semplicemente la nostra seconda parte di stake dovrebbe essere abbinata molto lentamente ma dicevo queste sono due ottime ottime statistiche andiamo però a dare un'occhiata anche al time frame dei gol andiamo partiamo proprio dal geom book visto che abbiamo appena finito di parlare del geom book questo poi si applicherà a qualsiasi mercato qualsiasi campionato ragazzi come vedete abbiamo la probabilità di un gol nel secondo tempo al 92 per cento il seul segna il 75 per cento dei propri gol nel secondo tempo e guardate questo picco di gol proprio tra il 61 e 75 entrambe le squadre tendono a segnare abbastanza frequentemente potremmo dire che il 76 90 e il time frame maggiore di gol e questo time frame 76 90 lo utilizzeremo come tra virgolette extra trade per cercare di andare in break even se la nostra loss su questo mercato dovesse arrivare intorno al 60 per cento possiamo entrare con un extra punto sugli over o mezzo punto dipende dal rischio totale che noi vogliamo avere nella nostra posizione e possiamo andare ad intercettare quello che molto spesso è un time frame ancora maggiore di gol la maggior parte dei gol arriva tra il 61 e il 90 in qualsiasi campionato del mondo non in tutte le partite chiaramente ma la maggior parte dei gol arriva in questi due time frame quindi sfruttando lo split over 2 e magari poi un late draw nel finale di partita molto spesso se il gol non dovesse arrivare prima riusciamo comunque ad uscire da quel mercato e recuperare la nostra loss con un ingresso classico in lei sul pareggio o sulla squadra che magari attacca di più in back cosa di questo tipo ma in ogni caso le statistiche sono molto buone in questa partita se andiamo a guardare il fu cuoca contro il vissel kobe anche qui possiamo andare a vedere che il time frame di gol non è altissimo nella fase 61 75 ma è decisamente alto nel 46 60 se il gol dovesse arrivare nei prossimi sei minuti in ogni caso io riuscirò ad abbinare la mia seconda parte di stake che dovrebbe essere abbinata tra pochi minuti in quanto è 3.8 il secondo ingresso e come vedete anche in caso di gol prima del sessantesimo in questo caso lo split over 2 vedete qua la quota che sta per essere abbinata in questo caso comunque potremmo chiudere un buon profitto quindi lo split over 2 nei casi in cui il gol dovesse arrivare abbastanza presto e il mercato non si aspetta così tanti gol potrebbe comunque portarci ad un buon risultato ci saranno altre strategie che secondo me funzionano diciamo riescono ad estrapolare ancora meglio il valore da questo particolare time frame quindi 46 60 ma in ogni caso nelle partite dove il mercato non si aspetta tanti gol un gol molto rapido nel secondo tempo in split over 2 come vedete sto per abbinare la seconda parte di stake siamo soltanto al 55esimo potrebbe sicuramente essere un ottimo dettaglio possiamo vedere però che comunque nei secondi tempi la probabilità di gol è all'86 per cento abbiamo anche qua due squadre che segnano e subiscono soprattutto molto più frequentemente nel secondo tempo e come vedete le tendenze sono chiare sono nette abbiamo anche una squadra nel visse il cobi che nei secondi tempi gioca da migliore in assoluto del campionato quindi comunque il secondo tempo del cobi sarà interessante sarà da squadra che sta cercando comunque di tornare nella parte alta della classifica abbiamo inoltre nella vispa fu cuoca una delle squadre meno in forma del campionato quindi è molto facile a mio avviso aspettarsi il visse il cobi cercare di chiuderla questa partita come vedete siamo attualmente con un punto di rischio ma già due punti e due di potenziale profit 10 minuti all'interno del secondo tempo questa è questo è il vantaggio dello split over 2 come vedete siamo più o meno allo stesso minutaggio 55esimo di qua 59esimo anche se in realtà siamo al 60esimo leggermente più avanti ma possiamo vedere che gli ingressi a mercato stanno entrando praticamente in parallelo quindi questo splittare la stake a mezzo punto e punto di distanza ricrea più o meno lo stesso scenario le stake entrano a mercato più o meno nello stesso momento dipende chiaramente da mercato a mercato dipende anche da punto di partenza perché alcuni mercati hanno una bias estremamente a sfavore dei gol altri invece ce ne hanno leggermente di più ma in ogni caso questo è lo split staking adesso ragazzi vedremo che cosa succede ci riaggiorniamo non appena succede qualcosa e vedremo come gestire le nostre posizioni di split over 2 rieccoci qui ragazzi all'interno dei mercati le partite sono appena terminate e per quanto riguarda la corea la loss è stata piena in quanto non sono arrivati gol già un book contro seul è finita 0 a 0 mentre invece la partita in giappone ha visto un gol poco dopo l'uscita dal mercato in realtà questa sarebbe stata una posizione potenzialmente di profit in quanto il gol è arrivato proprio un minuto dopo l'uscita dal mercato ma in realtà è arrivato tramite calcio di rigore quindi il mercato è stato sospeso a lungo il gol poi è arrivato ma se non fosse entrato il calcio di rigore ci saremmo ritrovati o meglio mi sarei ritrovato sul mercato all'ottantatreesimo senza extra gol e quindi la loss sarebbe stata ancora più importante è stato assolutamente giusto uscire da questo mercato ma in ogni caso il gol è arrivato e questo mi ha permesso di recuperare ampiamente la mia loss ed effettivamente con una loss di 2.2 punti l'alternativa è quella chiaramente di recuperare interamente la loss con un extra piccolo profit on top dipende chiaramente dalle varie situazioni ovviamente c'è anche la situazione migliore che quella del gol che andremo a vedere sicuramente adesso in altri esempi operativi ma voglio mostrarvi le statistiche soprattutto voglio mostrarvi le partite possiamo vedere che qui la goal expectancy è stata molto molto alta vi voglio mostrare brevemente come calcolare la media di gol attesa quindi quanti gol effettivamente possiamo aspettarci quando scusatemi quando abbiamo appunto una goal expectancy di nuovo tutto questo ve lo insegno nella goal expectancy masterclass disponibile su now trade se siete interessati a questo corso mentorship ma giusto per farvi capire quanti gol possiamo aspettarci da quello che è successo in campo quindi dalle occasioni che sono state create in campo per farlo andremo a fare la somma della goal expectancy che adesso goal profits ha inserito e questa è una novità estremamente importante questa goal expectancy di 3,03 non indica la media attesa di gol che possiamo aspettarci quindi questa goal expectancy non è 3 gol ossia quello che hanno generato queste squadre è ben superiore ai 3 gol in quanto si divide per 0 e 65 e si ottiene 4 e 66 quindi effettivamente queste due squadre hanno generato occasioni da gol per aspettarci oltre 4 gol e mezzo quindi ci sono state un sacco di occasioni da gol di nuovo se volete approfondire il perché il per come di questo calcolo e di tutto il resto potete andare su nowtrade.it seguire il goal expectancy masterclass incluso nel nostro abbonamento mentorship ma in ogni caso questo non è particolarmente rilevante vi sto spiegando lo split over 2 possiamo vedere che nella partita in corea non ci sono dati di goal expectancy ma gli attacchi pericolosi sono più che doppi hanno attaccato quasi tre volte rispetto a quello che hanno attaccato in giappone se così si può dire come vedete il jam book aveva iniziato molto forte nel secondo tempo ha avuto diverse buonissime occasioni poi nel finale ci sono sicuramente state occasioni sia da una parte che dall'altra ma essendo verso la fine della stagione siamo all'86 per cento magari anche la stanchezza delle squadre sicuramente ha avuto un ruolo importante possiamo vedere che il jam book in casa comunque l'ultimo e unico 0 a 0 l'aveva registrato a maggio mentre il seul in trasferta l'ultimo 0 a 0 anche l'aveva registrato a maggio insieme all'inizio della stagione ad aprile quindi comunque non risultati così frequenti in ogni caso due buone operazioni per iniziare la nostra sessione di split over 2 andiamo subito a cercare qualche altro live trade da svolgere con questa strategia ecco un altro esempio operativo lavoro di ragazzi con la strategia dello split over 2 questa è una buona partita nuovamente la liquidità non è immensa in quanto è la seconda divisione svedese ma adesso come potete ben vedere la seconda divisione svedese non offre più la stessa liquidità per esempio di metà luglio e questo perché chiaramente sono ritornati tutti i maggiori campionati europei tra massimo un mese un mese e mezzo in ogni caso qualsiasi operazione di mercato viene svolta su campionati europei quindi campionati per esempio svolti in francia italia eccetera eccetera anche la sicuramente è in europa ma queste operazioni classicamente vengono svolte unicamente in estate oppure alla fine dell'estate ma in ogni caso prendiamo spunto da questa partita e perché perché questa è una partita che nuovamente oltre al fattore del live rating dei tiri in porta ci sono già stati 5 tiri in porta che comunque sono tanti tra cui 6 tiri fuori dallo specchio abbiamo avuto praticamente quasi 15 tiri in totale nel primo tempo abbiamo anche una partita dove si affrontano delle squadre di bassa classifica possiamo vedere che qui molto probabilmente il fattore determinante oltre alle statistiche che tra poco vedremo sono sicuramente le motivazioni di queste squadre di cercare di vincere perché se oggi per esempio lo scovde questa squadra all'ultima posizione in classifica dovesse vincere potrebbe arrivare addirittura a quota 22 punti e quindi fare un passo in avanti molto importante se invece non dovessero vincere loro dovesse vincere quest'altra squadra da 21 si arriverebbe direttamente a 24 e quindi automaticamente un gol di questa squadra potrebbe permettere a questi calciatori non so bene dove sia questa squadra comunque di uscire dalla zona retrocessione nuovamente abbiamo quote di 2 e 2.5 incluse in questo range e quindi il mio ingresso a mercato è stato di 2 e 26 ho arrotondato poi a 2.8 successivamente 3.3 di nuovo ho fatto una sorta di 2.26 che è diventato 2.3 e nuovamente 3.8 quindi questo è un buon ingresso andiamo anche a dare un'occhiata alle statistiche di queste squadre nei secondi tempi andiamo di nuovo su second half stats e andiamo appunto a cercare la partita dello skovd e andiamo a vedere che nei secondi tempi abbiamo avuto in realtà una alta tendenza di under 0.5 ma di nuovo in questo caso nelle statistiche globali su 20 partite abbiamo comunque l'80 per cento della squadra in trasferta dove abbiamo almeno un gol e addirittura il 40 per cento dove ci sono stati tre gol nel secondo tempo ma di nuovo le statistiche in queste condizioni sono utili sino a un certo punto perché in ogni caso possiamo andare a vedere che essendo squadre di così bassa classifica chiaramente avranno bisogno di fare un gol perché se non vogliono retrocedere oggi è più importante l'analisi ed soprattutto le motivazioni live piuttosto che semplicemente quelli che sono i picchi di gol siamo anche inoltre quasi al 70 per cento di completezza del campionato ed inoltre abbiamo avuto soltanto 4 0 a 0 complessivi su 20 partite quindi in realtà non ci sono stati poi così tanti 0 a 0 se guardiamo gli scontri diretti di queste squadre ci sono sempre stati 3 gol 4 gol quindi comunque sembra una squadra che segnano molto nel secondo tempo ed inoltre di nuovo il picco di gol è proprio nel time frame 61 75 e poi 76 90 abbiamo altri picchi di gol subiti perché appunto sono squadre di bassa classifica ma in ogni caso l'analisi migliore in questo caso è scusate il gioco di parole sicuramente la motivazione di entrambe le squadre quindi vediamo che cosa succede se dovesse arrivare un gol entro il minuto 76 o al raggiungimento di una loss del 60 per cento chiuderemo questa posizione ed entreremo sugli over 0.5 ci vediamo non appena succede qualcosa all'interno di questa partita e rieccoci qui ragazzi all'interno del mercato dove possiamo andare a vedere che il gol è appena arrivato al 69esimo minuto e come possiamo anche andare a guardare dal grafico del mercato abbiamo ottenuto un drop molto importante adesso questo è il grafico completo che vi apro possiamo andare a vedere che la quota ha raggiunto a apice di l'apice a quote di 5 addirittura e questo drop successivamente ha fatto crollare la quota sino a 1 e 73 questo è esattamente il concetto di split stay come vedete i gol tendono spesso ad arrivare nei secondi tempi ma se noi riusciamo ad avere una quota media più alta entrando a mercato in differenti punti all'interno proprio del mercato nel secondo tempo che sia esso over 1.5 o over 2.5 riusciamo sicuramente ad ottenere un ottimo ritorno in questo momento esco dal mercato con un cash out profit che era anche maggiore rispetto a quello che avete visto adesso in quanto comunque il gol è arrivato da un paio di minuti stavo verificando che fosse tutto correttamente inserito e soprattutto per il video come potete vedere questo profit scende molto in fretta perché giustamente le quote sugli over 1.5 si alzano molto in fretta quindi è importante ragazzi prendere il profit non appena il gol viene ovviamente convalidato e quindi cercare di uscire a queste quote guardate le quote alle quali si poteva uscire in cash out al momento del gol erano quote di 1.77 adesso io sto uscendo a 1 quasi quote di 2 quindi chiaramente mi sono perso grossa parte del profit ma perché stavo prendendo tutti i vari grafici stavo anche tradando altre partite quindi in ogni caso non ero completamente focused ecco su questo match ma in ogni caso scusatemi questo è un buon ritorno come possiamo potenzialmente massimizzare questo ritorno sicuramente possiamo inserire parte di questo profit appena ottenuto sugli over 1.5 quindi reinvestire potenzialmente il nostro profit soprattutto quando abbiamo dei picchi di gol così tanto alti nella parte finale abbiamo addirittura un 60 per cento più 30 per cento quindi è una percentuale molto alta di tendenze di gol nella parte conclusiva del match e sicuramente questa può essere una ottima occasione quindi quello che andrò a fare sarà reinvestire il mio profit a quote di 2 quindi cercherò di prendere un prezzo migliore come avete visto le quote stanno salendo molto in fretta su questo asset di mercato e quindi mi metterò in una situazione dove sugli over 1.5 posso massimizzare il mio ritorno e puntare ad avere un profit di 200 euro quindi un profit decisamente molto interessante e soprattutto posso puntare ad avere un ritorno sul mio investimento iniziale molto vicino al 100 per cento anzi addirittura leggermente superiore al 100 per cento questo è sicuramente un ottimo trading ragazzi ovviamente si può uscire con un cash out profit questa è la cosa a mio avviso migliore se state incominciando ma se vedete che anche negli ultimi 15 minuti il picco di gol è molto alto molto spesso i gol arrivano soprattutto potete andare a dare un'occhiata alle statistiche generali degli over 1.5 possiamo vedere che abbiamo comunque una statistica abbastanza alta e di nuovo ragazzi abbiamo soprattutto il fatto che l'ultima in classifica adesso è veramente alle strette deve a tutti in tutti i modi cercare di fare almeno un gol perché sennò la situazione diventa molto brutta per questa squadra chiaramente possiamo andare a vedere che tra le due squadre questa è quella che ha attaccato di più 8 tiri in porta di cui quello che poi è stato il gol al 69 però possiamo anche andare a vedere che le tendenze di gol sono molto alte e soprattutto siamo risk free abbiamo una free bet quindi non abbiamo più alcun tipo di rischio quindi questa è la gestione di split over 2 con lo scenario migliore 4 parti di stake abbinate e possiamo anche andare a verificare quella che era la quota media di ingresso lo possiamo fare molto semplicemente se avete a vostra disposizione betting toolkit questo viene svolto automaticamente proprio dal software di nuovo sono già uscito in cash out quindi magari questo calcolo non viene svolto in maniera perfetta perché chiaramente c'è anche il cash out ma possiamo andare a vedere che la quota media punta è di 269 come si fa a calcolare questa quota media molto semplicemente si va a fare la somma delle quote che abbiamo inserito a mercato quindi 2 e 26 in questo caso più 2 e 80 più 3.3 più 3.8 quindi lasciatemi riprendere la calcolatrice 3.8 e si divide per il numero di ingressi quindi per 4 ingressi come vedete la quota media è di 3 questa quota media è stata abbassata in quanto sono uscito in cash out e quindi naturalmente il cash out ha diminuito la quota media globale ma in ogni caso questa è la teoria dietro al profit che abbiamo qua vedete anche vedere la classifica l'ho appena scoperto adesso dire il vero ragazzi cliccando su super etan potete vedere che si affrontano praticamente le ultime due del campionato ma quello che potete andare a verificare è la differenza tra la quota media e la quota di riapertura del mercato over sapendo che noi abbiamo una quota media di circa 3 al momento del goal possiamo fare la differenza o meglio il calcolo del nostro profitto tornando all'interno del mercato che vi ho mostrato poco fa prendendo una quota di 3 quindi il nostro ingresso globale come se fosse stato in full stake intorno a quote di 3 quindi il nostro ingresso a mercato è come se fosse stato questo ingresso qui e invece il goal ha permesso di avere un drop abbastanza importante la quota di 3 è una quota qua come vedete questo è l'ingresso il goal ci ha portato a questo drop e quindi la differenza che c'è tra queste due quote questi due ingressi a mercato hanno generato appunto il nostro profitto quindi questo è un ottimo esempio operativo ragazzi di lavoro con lo split over 2 lascerò qui all'interno della finestra in caso di profit naturalmente il finale diciamo quanto finisce questa partita è indifferente perché queste tipologie di operazioni si possono davvero svolgere in qualsiasi campionato in qualsiasi parte del mondo ma è necessario che ci sia un po di statistica del campionato in corso altrimenti è molto difficile intercettare questi veri e propri trend da goal possiamo vedere che ci sono stati due tiri negli ultimi 10 minuti e la nostra squadra dello Skovde si sta un po' svegliando sta un po' cercando di tornare in partita già tre tiri da quando è arrivato il goal due o tre tiri da quando è arrivato il goal quindi sicuramente abbiamo delle buone occasioni di massimizzare il nostro profitto ci vediamo tra poco ragazzi con nuovi esempi operativi della strategia split over 2 rieccoci qui ragazzi per un nuovo esempio operativo di lavoro con lo split over 2 voglio mostrarvi una altra modalità di analisi per trovare delle buone occasioni di lavoro con una strategia come questa anche in caso in cui anche nel caso in cui non dovessero esserci troppe statistiche di breve periodo come vi ho appena finito di dire lo split over 2 richiede comunque una analisi di breve termine abbiamo bisogno di intercettare questi trend di goal come vi ho appena finito di mostrare tuttavia possono esserci delle situazioni molto interessanti quando andiamo a consultare la head to head quindi gli scontri diretti tra due squadre possiamo vedere in questo caso la partita è genoa contro verona il mercato assolutamente non si aspetta goal in questo secondo tempo possiamo vedere che la quota degli over 1.5 partiva da 1.5 ma adesso pian piano ci stiamo quasi avvicinando a quote addirittura di 3 siamo addirittura a quote di 2.84 e neanche in 10 minuti arriveremo già a quote di 3 come vedete c'è una buona liquidità su questo mercato 52 mila euro sicuramente una liquidità differente rispetto a quella che avevamo prima in svezia e chiaramente quando saremo a ottobre novembre dicembre gennaio avremo tutte le statistiche necessarie per davvero svolgere il miglior trading sportivo possibile ossia con partite ad alta liquidità ma anche con tante analisi c'è tuttavia ragazzi una struttura di trading anche legato al lungo termine quindi non è soltanto questione di quello che succede nella stagione in corso ci sono tanti aspetti che possiamo considerare per esempio dei database di lungo termine delle singole squadre database di lungo termine in termini di quote d'apertura del mercato quindi per esempio possiamo andare a consultare degli archivi molto importanti di dati come vi mostro in corsi più avanzati ma quello che voglio mostrarvi in questa sezione dato che siamo nelle strategie di base del corso 2.0 e l'analisi degli scontri diretti e per farlo sposto brevemente la partita nell'altro schermo e vi mostro gli scontri diretti tra genoa e verona hellas verona andiamo a vedere che naturalmente non ci sono statistiche di breve termine ma ci sono statistiche di lungo termine nella head to head andiamo a guardare che genoa e hellas verona in casa a malassi quindi a genova non hanno mai registrato uno 0 a 0 si sono incontrate ininterrottamente 2023 2021 2020 2018 2015 ovviamente c'è un po di sbalzi perché credo soprattutto l'ellas sia stata in serie b con se mi sto sbagliando perdonatemi tifosi del verona ma in ogni caso non si sono sempre incontrati perché tra un po con il genoa un po con l'ellas verona una delle due squadre era in serie b quindi non ci sono stati scontri diretti ogni singolo anno ma possiamo andare a vedere un interessantissimo fattore il trend di questa partita è abbastanza legato ai gol possiamo sicuramente vedere per esempio nel 2021 che genoa e hellas da 0 a 1 siamo arrivati al 3 a 3 finale un risultato assolutamente contro quello che il mercato sta vedendo in questo momento nella partita e sicuramente lo stesso tipo di pensiero che si è fatto il mercato e quel 25 settembre di tre anni fa quando eravamo 0 a 1 alla fine del primo tempo non si aspettavano sicuramente altri cinque gol nel secondo tempo così come nel 2021 il campionato precedente altri tre gol nel secondo tempo come vedete questo è un trend abbastanza interessante queste squadre qui dall'1 a 0 al 3 a 1 qui dal 2 a 0 al 2 a 0 qui dal 3 a 1 al 5 a 2 queste non sono classiche statistiche di squadre che quando si incontrano fanno sempre 0 a 0 anzi non hanno mai fatto 0 a 0 quando si sono incontrate amarassi queste due squadre e quindi questo può essere sicuramente un buono spunto per trarre valore da una strategia come appunto quella dello split over 2 chiaramente lo split over 2 in partite di questo tipo fanno anche a mio avviso abbastanza riferimento al live rating quindi magari andiamo a consultare la goal expectancy come vi dicevo poco fa andiamo a vedere la partita del genoa andiamo a vedere che la goal expectancy è comunque discretamente alta possiamo vedere che soprattutto il genoa ha attaccato nel primo tempo e in generale abbiamo una goal expectancy di 0 55 e 0 e 37 che sommata quindi 0 55 più 0 37 come vi insegnavo diviso 0 virgola 65 abbiamo una media attesa di gol di 1 e 41 possiamo aspettarci in base a questi due tiri in porte 4 tiri fuori dallo specchio circa un gol e mezzo quindi le squadre comunque si sono messe nelle situazioni nella situazione di segnare e questo potrebbe essere un extra dato interessante di nuovo non sto qui a mostrarvi le analisi di lungo termine non sono così influenti o meglio lo sono ma questi dettagli a mio avviso creano sicuramente un'analisi di buonissimo valore queste squadre tendono a segnare molto spesso quando si incontrano e praticamente una volta su due addirittura segnano 4 5 gol nei secondi tempi quindi questo è sicuramente un dato che si è riproposto negli anni quindi non è successo soltanto una volta è successo tre volte su 5 7 analisi quindi sicuramente c'è un trend in questa statistica head to head genoa e hellas da sempre sono squadre di bassa media classifica quindi in ogni caso non abbiamo una squadra che negli ultimi 5 o 6 anni ha cambiato così tanto magari l'organico o così tanto diciamo il livello di gioco quindi potremmo dire che il genoa e l'ellas di due anni fa tre quattro anni fa erano abbastanza simili quindi di nuovo possiamo catalogare questa partita in una analisi di breve termine per quanto riguarda il live rating e le statistiche ma di lungo termine per quanto riguarda la head to head svolgete questa tipologia di analisi ragazzi quando appunto siamo all'inizio della stagione se dovessimo essere già più avanti nella stagione avremmo chiaramente anche le statistiche di breve termine scusatemi se qua continuo a lampeggiare tutto metto la partita nei my games e naturalmente vi aggiornerò non appena succede qualcosa questo è il mercato come vedete sono entrato a quote di 2 7 3 8 4 8 5 8 in quanto il primo ingresso è stato una quote ben superiore di 2.5 e quindi mi posso aspettare una quota media molto alta su questo mercato e se dovesse arrivare un gol nel time frame 60 76 chiaramente potrei chiudere un ottimo profit vediamo ragazzi che cosa succede in questo nuovo esempio operativo di serie a e riacci qui ragazzi sul mercato in quanto è proprio appena arrivato un gol da parte del verona e ci ha messo molto poco effettivamente questo trend di gol nei secondi tempi di queste due squadre quando queste due squadre si affrontano sembra essere ritornato e soprattutto come vedete il drop causato da questo gol è stato molto importante abbiamo sicuramente intercettato un gol che è arrivato molto presto questo sì perché è arrivato al 55esimo minuto solitamente si riesce ad entrare già con una seconda parte di stake infatti se andiamo a guardare le quote d'apertura io ho prenotato 2 72 come prima parte di stake e l'ultima quota prima del gol andiamo subito a monitorarla è stata una quota di 3 e 70 qualcosa 3 e 75 adesso non riesco a inquadrarlo con esattezza ma comunque 3 75 come vedete l'ultima parte di stake quindi mancavano pochissimi secondi per abbinare una seconda parte di stake a quote di 3.8 e già avere una media molto importante su questo mercato sicuramente questa è una buonissima operazione di trading e come vi consiglio di gestirle queste operazioni quando c'è soltanto una stake abbinata o anche due si può decidere sia con una o con due stake ma la cosa migliore è farla quando c'è soltanto una parte di stake quindi un rischio molto contenuto in questo caso è mezzo punto se doveste utilizzare un per l'un per cento quindi un punto per un completo investimento in split staking sarà addirittura lo 0 25 per cento vi consiglio di cancellare gli altri ordini quindi gli altri ingressi a mercato quelli che vi ho mostrato prima spariscono non ci sono più niente 3.8 che per pochissimi secondi tra l'altro non è stato inserito a mercato e di lasciare la posizione così come la vedete quindi avere una buonissima analisi rischio ricompensa perché comunque 84 euro con appena un rischio di 50 euro che in questo caso è mezzo punto nel mio investimento globale sarebbero stati due punti è un'ottima analisi rischio rendimento l'abbiamo visto questo è un trend di squadre che tendono a segnare molto spesso in realtà segnano molto frequentemente e soprattutto segnano tantissimi gol è un trend che abbiamo notato in queste ultime analisi head to head di nuovo lascerò qui sotto il risultato finale ma questa è un'ottima analisi quando arriva soltanto una parte di steak quando entra soltanto una parte di steak o anche due parti di steak abbiamo comunque ancora 30 minuti anche di più più recupero per aspettarci un gol e soprattutto se segna la squadra ampiamente non favorita perché il verona non era la squadra favorita l'andiamo subito a reperire su gol profits il verona in questa partita partiva da quote di 4.10 quindi sicuramente non c'era assolutamente tutto questo favoritismo per questa squadra possiamo sicuramente aspettarci il genoa provare a trovare il gol provare a tornare in partita e quindi abbiamo una buona posizione quindi ci vediamo ragazzi nel prossimo e ultimo esempio operativo di split over 2 avete capito come funziona questa strategia ma soprattutto avrete a vostra disposizione centinaia di esempi di split over 2 nel nostro canale telegram in quanto praticamente ogni giorno utilizzo questa strategia sul mercato quindi ancora un esempio operativo di live trading con lo split over 2 e poi naturalmente facciamo un recap globale di tutto il trading che abbiamo svolto sino ad adesso rieccoci qui ragazzi all'interno dei mercati per un'ultima breve sessione di lavoro con la strategia dello split over 2 come vedete ho dinanzi a me alcune partite in brasile siamo nella divisione principale il brasile rao brasil serie a e abbiamo anche il 61 per cento di campionato in corso quindi queste sono tipicamente le migliori condizioni possibili per analizzare per studiare le partite per trovare delle buone occasioni di split over 2 e nella fattispecie il brasile è uno di quei campionati dove tipicamente le quote sui gol sono molto alte come vedete atletico paranaense contro palmeiras quote di 2.2 considerando che il palmeiras è una squadra ampiamente favorita possiamo anche vedere che gli over 2.5 partivano da quote di 2 quindi questa è una di quelle partite in brasile dove comunque il mercato si aspetta gol mentre in altre situazioni per esempio come fluminense contro san paolo possiamo andare addirittura a vedere che le quote degli over 2.5 scusatemi sono addirittura di quote di 3 e partivano gli over 2.5 da quote di 3 quindi in questo caso abbiamo sicuramente una partita dove il mercato non si aspetta tanti altri gol vittoria contro vasco d'agamea anche qui abbiamo assolutamente una bias non a favore dei gol con le quote degli over 2.5 che partivano da 2.52 ma come possiamo andare a trovare le migliori occasioni andiamo naturalmente a guardare le statistiche secondo tempo qua avevo alcune analisi che stavo svolgendo ma per esempio indipendiente contro river plate era una potenziale buona occasione ma c'era un cartellino rosso quindi non sono entrato in questa partita vi consiglio assolutamente di evitare le partite con cartellini rossi come in questo caso juventude contro internazionale in ogni caso 0 a 2 non è una partita tradabile con uno split over 2 ma in ogni caso evitate categoricamente i cartellini rossi andiamo subito a dare un'occhiata alle statistiche partendo dalle second half stats i due concetti chiave sono time frame di gol e incidenza di gol prima di tutto vogliamo partite dove nei secondi tempi ci siano gol quindi tipicamente andremo a cercare quelle che sono le partite con il maggior numero di gol nei secondi tempi andiamo per esempio a prendere la partita fluminense contro san paolo quindi andiamo a vedere questa partita siamo 1 a 0 per la fluminense e possiamo andare a vedere che nei secondi tempi le tendenze di gol sono discretamente alte questa è una partita tra squadre molto famose in brasile la fluminense era partita malissimo era l'ultima in classifica addirittura è stata nelle ultime fasce per tantissimo tempo guardate questa striscia di loss consecutive in trasferta sicuramente uno dei record più brutti per una squadra che tra l'altro aveva anche vinto la coppa libertadores quindi un po l'equivalente della champions league che poi diventa l'ultima nella classifica del campionato quindi comunque una situazione dalla quale sembra essersi tolta la fluminense però san paolo chiaramente quinto in classifica ha ancora delle ottime ambizioni possiamo vedere che nei secondi tempi quando il risultato esatto è di 1 a 0 abbiamo delle tendenze ampiamente a favore della squadra di casa come possiamo anche andare a vedere il san paolo non vince praticamente mai nei secondi tempi quando è sotto di un gol e questo lo possiamo anche vedere qui qua non è mai successo praticamente il san paolo non ha mai ribaltato un risultato di svantaggio a fine primo tempo e quindi facilmente possiamo aspettarci altri gol ma da parte della squadra favorita quindi una statistica discreta possiamo vedere anche che questo both teams to score molto alto quindi in realtà possiamo forse aspettarci un gol del san paolo ma le statistiche non sono particolarmente elevate possiamo anche andare a vedere che in realtà il san paolo non ha attaccato non ha creato grandi occasioni con l'expectancy bassissima quindi non hanno fatto praticamente niente e quindi in realtà non c'è magari tutto questo grossissimo valore prima di andare a guardare il time frame di gol vado a verificare se ci sono altre occasioni per esempio nella partita bragantino contro bahia questa è una partita sicuramente dove le tendenze di gol sono notevolmente più alte abbiamo sette partite e sette volte c'è stato un gol nei secondi tempi in queste occasioni il bragantino tra l'altro questo è un dettaglio molto interessante non ha mai terminato 0 a 0 un primo tempo questo è molto interessante perché il brasile non è un campionato dove ci sono così tanti gol specie nei primi tempi quindi questa è un'analisi diversa rispetto alle classiche ma abbiamo nella half time score relative che intende una fine primo tempo con il risultato relativo cosa vuol dire vuol dire pareggio essenzialmente entrambe le squadre nello stesso identico risultato quindi andremo a considerare diversi 1 a 1 questo vuol dire che ci sono stati 3 1 a 1 1 2 e 3 e ci sono stati altri altri 4 1 a 1 del bahia in trasferta andiamo lì a localizzare andiamo a vederne 1 di qua andiamo a vederne 0 a 0 0 a 0 0 a 0 quindi consideriamo i risultati relativi quindi i risultati di parità tutti i risultati di parità 1 1 0 a 0 in queste sette situazioni è sempre arrivato un gol nei secondi tempi quindi questa è già una statistica leggermente migliore mi piace sicuramente di più quindi andrò a togliere la partita della fluminense per il momento anche perché il bahia sicuramente sta attaccando molto di più ha trovato delle occasioni sicuramente molto più pericolose 0 a 85 già una goal expectancy da gol e quindi potenzialmente qui abbiamo una buona discreta occasione sicuramente il maggior numero di tiri in porta la partita con il più alto rating in termini di tiri in porta è stato generato dall'atletico paranaense contro il palmeiras quindi andiamo a dare un'occhiata anche ad atletico paranaense contro palmeiras pure qui possiamo andare a vedere che tutti i secondi tempi molto spesso arriva un gol ma nel haletime score relative non abbiamo troppe informazioni questo vuol dire che in realtà non finiscono molto spesso le partite con questo risultato immagino che la maggior parte delle punti la maggior parte delle partite finisca 0 a 0 come vedete il palmeiras molto raramente si è trovato specialmente nel recente periodo in vantaggio di un gol in trasferta quindi non abbiamo troppe informazioni nei secondi tempi andiamo ancora a vedere un ultimo esempio vittoria contro vasco da gamma e andiamo a vedere in questo caso abbiamo delle statistiche molto interessanti haletime score exact abbiamo sette partite sette volte arrivato un gol nel secondo tempo quindi assolutamente tra queste quattro partite che abbiamo appunto visto insieme per adesso sicuramente le migliori partite sono quelle sullo 0 a 0 entrambe le partite sullo 0 a 0 e questo perché adesso andremo anche nelle team stats generali e andremo a vedere se effettivamente le squadre tendono a segnare in generale non soltanto nei secondi tempi andiamo a vedere appunto la partita del vittoria contro il vasco da gamma due squadre che arrivano dalla serie b mai terminata 0 a 0 quindi abbiamo praticamente quasi 25 partite combinate insieme entrambe le squadre hanno un picco di gol interessante o meglio un over 1.5 interessante circa il 70 per cento 70 per cento preciso combinato insieme e abbiamo inoltre mai 0 a 0 quindi questa è una buona analisi una buona statistica il vittoria tra l'altro una squadra che è al fondo della classifica attualmente sta ritornando in serie b e quindi anche qua potrebbe esserci una motivazione come vi ho mostrato questo pomeriggio se guardate il video adesso l'ho registrato questo pomeriggio in svezia e quindi c'è un'analisi molto simile a quella che appunto abbiamo svolto in svezia questo pomeriggio quindi questa è un'ottima partita assolutamente da split over 2 possiamo anche andare a vedere che il picco di gol è abbastanza tra il 46 e il 75 specialmente nel primissimo time frame abbiamo un discreto picco di gol ed infine nella fase proprio finale abbiamo un alto picco di gol subito da parte di entrambe le squadre quindi se dovessimo uscire con una loss del circa 60 per cento abbiamo un circa 40 50 per cento di probabilità di recuperare questa loss con un lei del risultato esatto con un lei sul pareggio con un back sugli over 0.5 ottima operazione che sicuramente andrò ad aprire a mercato ragazzi intanto credo che stiano ricominciando le partite quindi devo farlo in fretta andiamo subito sui mercati ma anzi vi lascio qui un secondo vado subito ad aprire le posizioni così faccio più rapidamente diamo anche un'occhiata all'altra partita che avevo interesse a tradare che era la partita del bahia questa qua bragantino contro bahia che tra l'altro è di nuovo appena ricominciata anche qui ottime statistiche di gol ed addirittura qui il bahia ha veramente un picco assoluto tra il 61 e il 75 quindi questa è anche una ottima occasione zero volte finita 0 a 0 ovviamente può finire oggi 0 a 0 nessuno ci dice che non possa esserci ma il trend è chiaro sono trend da gol sono trend di squadre che segnano quindi ragazzi ci rivediamo tra un minuto perché vado subito ad aprire le posizioni così possiamo analizzare insieme questi mercati eccoci qua ragazzi ho aperto rapidamente le posizioni a mercato come possiamo andare a vedere siamo al 48esimo minuto qui nella partita bragantino contro bahia tuttavia la quota è molto più vicino a 2.5 che a 2 quindi quello che si potrebbe fare in situazioni simili è sicuramente quello di aspettare 3-4 minuti ed aprire una posizione poi suddivisa ad ogni punto di distanza questo ha molto senso perché questa comunque è una partita dove la bias non è sui gol quindi ok che il canone di ingresso se è tra 2 e 2.5 è dilazionato ad ogni mezzo punto di distanza ma se davvero siamo così tanto vicino a 2.5 nei primissimi minuti del secondo tempo questo è sicuramente un mercato che non si aspetta i gol quindi molto rapidamente questa quota crescerà e quindi il mio consiglio è quello di entrare comunque ad ogni punto di distanza quindi adesso cancello gli ordini per rimostrarvi essenzialmente l'intero processo come vedete sono entrato a quote di 2 e 32 ma è passato letteralmente un minuto ragazzi due minuti siamo già a quote di 2.5 quindi il mercato sta scappando molto rapidamente il mio consiglio è dunque quello di abbinare la seconda parte di stake già a quote di 3.5 successivamente 4.5 ed infine 5.5 lo so che può sembrare molto complessa la gestione di questo trade ma lo vedrete molto rapidamente soprattutto con un paio di trade una decina una ventina una cinquantina di trade capirete subito che tipologia di mercato avete di fronte qui a destra abbiamo chiaramente un mercato che non si aspetta nessun tipo di gol qui a sinistra abbiamo un mercato che si aspetta leggermente di più ma in ogni caso non è una di quelle partite dove il mercato si aspetta tanti gol quindi entrambi i casi si può aspettare quell'extra 2 3 4 minuti e successivamente aprire un ingresso ad ogni punto di distanza qua l'ho già fatto 2 80 3 80 4 80 5 80 qui invece ho dilazionato o meglio sono entrato subito a 2 32 ma i successivi ordini li ho inseriti ad ogni punto di distanza questa è assolutamente la maniera migliore per tradare con uno split over 2 perché in ogni caso lo so che il time frame di gol abbiamo appena visto del bahia è proprio nel sessantesimo minuto circa 75esimo ma in ogni caso questo mercato scapperà molto in fretta soprattutto se non dovessero esserci grosse occasioni da gol ok quello che andrò a fare ragazzi per questa ultima sessione sarà uscire in cash out se dovessero arrivare dei gol quindi farò l'intero processo di split over 2 e ci vediamo direttamente alla fine di queste operazioni rieccoci qui ragazzi all'interno del mercato è appena arrivato il gol nella partita del vittoria da parte del vasco da gamma ottimo ottimo ritorno guardate qua la quota di profitto meglio l'entità del profitto quanto sta crescendo riesco a uscire in cash out profit probabilmente con addirittura 170 euro un ritorno molto interessante addirittura 186 adesso andrò ad equalizzare meglio il mercato quindi ottimo ritorno quattro parti di stake abbinate nuovamente gol che arriva nel time frame perfetto per uno split over 273 euro chiusi mentre nella partita del bragantino contro il bahia abbiamo avuto un gol al minuto 64 quindi nuovamente il time frame è stato quello perfetto mi sono messo in free bet quindi sono uscito in cash out sul gol avevo due parti di stake abbinate e ho successivamente reinvestito l'intero profitto sugli over 1.5 il gol è arrivato poco dopo al settantunesimo nuovamente il bahia ha trovato il gol nel time frame nel quale segnava più spesso e quindi ho chiuso una ottima sessione di profitto con lo split over 2 andiamo a calcolare rapidamente il ritorno sull'investimento delle singole operazioni partendo da questa questa è un cash out profit quindi sono uscito in cash out il mio investimento è stato di 200 euro quindi si fa molto in fretta a capire che il mio ritorno è stato del quasi 87 per cento molto interessante un ottimo ritorno come vedete come avrete visto le quote erano molto alte sui gol da questa parte il ritorno è naturalmente minore perché sono state abbinate meno parti di stake ma voglio mostrarvi ancora rapidamente per l'ultima volta il grosso drop che è stato generato da questo gol guardate quale quote alle quali eravamo arrivati sugli over 1.5 in questa partita brasiliana eravamo arrivati fino a quote di 8 mentre noi avevamo abbinato 280 380 480 580 quindi nuovamente calcoliamo la quota media 280 più 380 più 480 più 580 diviso 4 la quota media era di 4,3 quindi il nostro ingresso è stato un ingresso di questa tipologia come se noi fossimo entrati a mercato in questa parte qui del mercato stesso e il nostro goal ci ha permesso di chiudere questa differenza di profite quindi c'è stato un ottimo drop un ottimo trading per concludere il nostro lavoro con lo split over 2 se avete bisogno di ulteriori dettagli ragazzi assolutamente questa è una delle strategie più utilizzate più viste nella nostra academy quindi commentate pure in questo video seguite le nostre attività e seguite tutti gli altri contenuti dove molto spesso vedrete inserita una strategia o una tipologia di lavoro in questa direzione grazie a tutti ragazzi come sempre per seguire il corso di trading sportivo 2.0 mi raccomando di seguire il canale telegram di iscrivervi al nostro profilo di instagram e noi ci vediamo come sempre alla prossima lezione qui su youtube